Salve a tutti benvenuti da TecnoEyes oggi parleremo di video sorveglianza in particolare analizzeremo i sistemi di trasmissione che ci permetterà che permetterà alla nostra telecamera di trasferire il suo segnale video al dvr tv e quant'altro anche di smartphone con opportune conversioni quindi è importante che nell'invideo sorveglianza questo tipo di elemento non vada trascurato questo perché perché appunto dipende anche dalla qualità del cavo quindi avremo una scassa qualità dell'immagine a non utilizzare al massimo le caratteristiche dei nostri sistemi collegati allora il come vedete il cavo utilizzato è un cavo coassiale praticamente uguale ai cavi che vengono quasi simile ai cavi utilizzati per segnali tv in casa l'avete visto bianco e permette di appunto di ricevere immagini sul nostro apparecchio tv in dvt quindi in digitale terrestre i connettori utilizzati sono questi qua in bnc un cavo diciamo un sistema a bagionetta come vedete è molto pratico e come vedete com'è fatto quindi abbiamo detto che questo qua è c'è scritto il modello è un rg 59 slash o quindi è un tipo di cavo che lavora a 75 ohm voi dite perché 75 ohm è perché praticamente il 75 ohm allora diamo una piccola apriamo una piccola parentesi che quando la nostra sorgente che è la telecamera genera comunque un segnale videocomposito che deve in qualche modo viaggiare da un punto a un punto b può in qualche modo alterarsi ok ci sono delle variabili nel fisicamente che in qualche modo possono alterare e quindi dall'altra parte dalla parte dell'utilizzatore potrebbe non essere potrebbe crearsi dei problemi e però appunto utilizzando questo cavo 75 ohm il praticamente il bilanciamento indicato per la trasmissione video quindi noi possiamo tranquillamente l'impedenza è un fattore abbiamo detto però ci sono anche l'induttanza la conduttanza ci sono altri fattori che possono in qualche modo essere importanti ok però su questo cavo qualsiale appunto limita molto la perdita di dati a lunghe distanze qui per la videosorveglianza può reggere fino a 200 metri senza avere nessun problema sulla qualità dell'immagine però poi successivamente se superiamo alcune soglie o diciamo dalle caratteristiche dell'impianto va utilizzata un altro tipo di tecnologia diciamo che questa è una tecnologia un po vecchiotta però è efficace per farvi un altro esempio prima i computer venivano collegati in rete tramite appunto questo cavo quassiale è simile che ce l'ho un po di cavo molto simile è sempre un cavo quassiale però c'è scritto il tipo di cavo utilizzato è un r un r g 58 c slash u sempre un cavo quassiale e questo era pur utilizzato per la trasmissione dei dati l'unica differenza con quello della videosorveglianza che questo è a 50 ohm mentre questa stretta a 75 e questa questa differenza di credenza rende sì che questo tipo di cavo è più indicato per la trasmissione dei dati e non per la trasmissione di segnali video ecco questa un po la differenza ok vi conto quanto sia vecchio questo sistema vengono anche utilizzati dei cavi combinati quindi con l'alimentazione più il cavo ok più il cavo per il segnale video che è sempre un rg 59 l'unica cosa che è passata insieme l'alimentazione e il segnale video ok con un unico cavo e niente quindi la cosa importante da sapere che comunque la la caratteristica di questo cavo oltre che insomma è immune ai disturbi esterni ma la particolarità che appunto questo 75 ohm permette sì che il sistema ha un equipotenziale da entrambi i lati che succede se superiamo diciamo il limite del nostro cavo succede che dobbiamo adottare altri sistemi il sistema più utilizzato cavo utp un cavo di rete sostanzialmente categoria questa è una categoria 5 e insieme a questi cavi quindi possiamo andare tranquillamente con un sistema passivo a 400 metri con un cavo ethernet come questo è l'unica cosa che come facciamo utilizziamo praticamente dei dispositivi come questi che ci permetterà di utilizzare il cavo di rete quindi da ethernet per la video sorveglianza utilizzando questi due dispositivi uno si monta la parte della telecamera e l'altro si monta dalla parte del dvr quindi dalla parte trasmittente la parte ricevente non c'è nessun potete pure scambiare non succede niente vengono chiamati balun come vedete vengono chiamati balun sono più che altro e vengono forniti già col connettore in bnc qui facciamo vedere poi vediamo insieme come collegarlo da una parte all'altra perché si chiamano balun voi dite perché si chiamano balun perché la balun è anacronimo bal ok sta per balanced mentre an unbalanced cioè quindi bilanciamento e sbilanciamento quindi crea un bilanciamento da 75 ohm quindi fa una praticamente una simulazione come se fosse un cavo coassiale c'ha delle caratteristiche non ci sono delle caratteristiche che vanno che vanno in qualche modo considerate durante l'installazione quindi durante la diciamo la progettazione dell'impianto quindi vedete questo tipo di balun ha delle caratteristiche come vedete vedete come cambia in base al tipo di risoluzione per esempio se utilizziamo una risoluzione a 620 pixel può arrivare a 400 metri mentre se utilizziamo la ma c'è un 1080 pixel la la si riduce la praticamente la il percorso quindi può arrivare a 250 metri vedete poi quando se utilizziamo un 4k 4 megapixel arriviamo a 180 metri però comunque come questo è formato hd cvi poi ci sono altri formati in hd un altro formato molto utilizzato vedete comunque arriva a 400 fino arrivare a 180 con 4 e 5 megapixel quindi questo può gestire praticamente tutte già una maggior parte di delle codifiche utilizzate e fino a 4k e utilizzando vedete un cavo di come abbiamo visto prima un cavo in ethernet categoria 5 e 6 comunque li fanno di diverse forme diverse cose cioè l'importante rispettare il più e il meno ora facciamo insieme sta cosa lo colleghiamo insieme quando andremo a preparare il nostro cavo avremo quattro coppie ok vedete sono quattro coppie la cosa interessante sono comunque cavi rigidi e cavi rigidi e cavi rigidi nel mio caso nel mio cavo sono cavi in una cavo utp e sono rigidi e sono twisterati quindi col sistema intreccio diciamo paradiofonia a un sistema di rinforzo del segnale e in più è immune al disturbo col sistema intrecciato ma la cosa interessante è che io con un cavo è importante che io con un cavo posso gestire quattro telecamere ok quindi strutturalmente potrebbe potrebbe in qualche modo aiutarmi nell'installazione prendiamo il primo ballon facciamo il bianco verde negativo e il verde sul più ok questo è un capo quando arriveremo dalla parte del dvr prepariamo l'altro abbiamo realizzato un sistema alternativo per trasmettere il nostro segnale video ok dalla telecamera al dvr se utilizzassimo invece un sistema passivo come questo cioè senza alimentazione con un sistema attivo con l'alimentazione potremmo avere una maggiore distanza per estendersi quindi potremmo arrivare anche a un paio di chilometri dalla telecamera al dvr ok al sistema di monitoraggio è la soluzione alternativa al cavo il cavo quassiale rg59 la soluzione viene utilizzata anche il cavo ottico per la trasmissione video come questo vedete e qua andiamo anche oltre come lunghezze l'alternativa è il collegamento in rete della telecamera diciamo che adesso esistono delle telecamere che comunicano cioè basta passare solo questo cavo e con questo cavo noi possiamo sia trasferire l'immagine che è digitale potete capire è digitale e più c'è l'alimentazione vengono utilizzati dei sistemi che vengono chiamati POE vi faccio vedere uno schema dopo vi faccio vedere una slide questo per esempio vengono utilizzati questi aggini qui praticamente se io ho un router normale ok perché sennò bisognerebbe comprare degli switch o dei router che gestiscono le porte POE come leggete però se io non dovesse avere una telecamera per esempio che funziona con questa tecnologia io posso tranquillamente dal modem inserire la LAN quindi posso avere la comunicazione sul mio modem e in più di qua poi uscirà l'altro cavo che va alla telecamera ok però devo alimentarlo separatamente quindi io qua poi avrò l'alimentazione e la trasmissione date insieme però vi lascio dei link in descrizione per se volete analizzare questi componenti ah mi dimenticavo la cosa interessante cioè volevo far vedere come è fatto all'interno un ballon ecco qui cioè c'è praticamente una bobina e la resistenza appunto quindi crea il bilanciamento sul nostro cavo ok semplice no? ok vediamo la particolarità di una telecamera BNC come vedete è una telecamera in POE come vedete praticamente basterà solo un cavo e questa è la differenza delle due spero che questo video sia stato utile grazie da Tecnoice allora ecco 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 ecco